Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Il 2020 ha ospitato uno degli anniversari più importanti della storia del videogioco e anche per il 2021 le aspettative sono altissime. Se l'anno scorso è toccato a Mario spingere 35 candeline, quest'anno sarà il turno della serie di The Legend of Zelda e sono sicuro che Nintendo omagerà a dovere una delle sue saghe più importanti. Ma attenzione, perché in realtà il 2021 ospiterà tantissimi anniversari degni di nota, delle occasioni perfette per segnare il ritorno in grande stile di alcune serie storiche scomparse da tempo o magari per scoprire alcuni titoli meno noti di brand famosi. In questo video quindi faremo la lista dei compleanni che verranno festeggiati nei prossimi mesi aggiungendo qualche prediction sui titoli che potrebbero accompagnare questi anniversari. Vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre aspettative e come al solito se questo genere di video vi piace vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Tolto dall'equazione Zelda, a cui magari dedicheremo un video intero, partirei da alcuni nomi che secondo me vedremo quasi sicuramente nei prossimi mesi. Pokémon festeggerà il suo primo quarto di secolo e oltre a Pokémon Snap, annunciato l'anno scorso e poi misteriosamente scomparso, nel 2021 ricade un anniversario all'interno dell'anniversario, ovvero i 15 anni dalla pubblicazione di Diamante e Perla. Se ne parla ormai da anni e se c'è un momento giusto per far uscire i tanto rumoreggiati remake di quarta generazione, beh il 2021 è l'anno perfetto. Speriamo solo che Game Freak riponga la cura necessaria nel confezionare dei prodotti attesissimi dai fan, non ripetendo gli stessi errori che si sono presentati con l'ottava generazione. 35 anni è anche per Metroid, la serie meno festeggiata in assoluto da parte di Nintendo. E' dal disastroso Other M che la casa di Kyoto sostanzialmente finge che la serie non sia mai esistita e a parte l'ottimo Samus Returns e l'annuncio di Prime 4, i Samus Aran si sono persi ormai le tracce da anni. Speriamo che Nintendo si dia una svegliata. Non pretendo che esca il nuovo Prime, che sarà ancora lontano dal completamento, ma basterebbero anche solo poche informazioni a riguardo, o magari la pubblicazione della tanto chiacchierata Trilogy Collection, o perché no, un nuovo Metroid in 2D che riprenda l'impostazione dei classici Metroidvania, o se no un remake di Super Metroid, insomma qualsiasi cosa andrebbe bene. Nintendo ti prego, fa qualcosa. E visto che si parla di Retro Studios va citato necessariamente anche il quarantesimo anniversario della serie Donkey Kong. Il team texano si è occupato nel 2010 di reimmaginare la storica serie di platform country con risultati incredibili, ma dopo in Returns e Tropical Freeze purtroppo non ci sono stati aggiornamenti sulla serie. Preferirei un platform classico, ma anche in questo caso andrebbe bene qualsiasi cosa, anche un titolo più sperimentale come Jungle Beat, basta che sia affidato a un team competente. 25 anni anche per la serie di Resident Evil e sebbene non si tratti di una saga legata esclusivamente a Nintendo, ci sono stati alcuni capitoli che hanno segnato indelebilmente la storia della grande N. Resident Evil 8 Village è dietro l'angolo, ma per questo compleanno importante mi aspetto un remake totale di Resident Evil 4, proprio come è accaduto recentemente per il secondo e terzo capitolo. Il quarto capitolo della saga ha rappresentato una tappa fondamentale all'interno della vita del Gamecube, forse la sua esclusiva temporale più importante dell'epoca ed è giusto che un gioco così epocale venga ricordato a dovere. Parlando di console che nel bene e nel male hanno fatto la storia dell'azienda di Kyoto, mentre hardware spengono delle candeline di tutto rispetto. La Wii faceva il suo debutto ben 15 anni fa, sono passati 20 anni dall'esordio negli Stati Uniti del Gamecube e 25 dall'uscita del Nintendo 64. Sapete quanto io amo il cubetto e spero vivamente che il suo catalogo venga riproposto in qualche modo da Nintendo, anche se a rigor di logica dovremmo aspettarci prima qualche celebrazione dedicata al Nintendo 64. Insomma, che si tratti di nuove console mini dopo il successo di NES o SNES o dell'aggiunta delle librerie all'offerta del Nintendo Switch Online, spero vivamente che nel 2021 venga celebrata la linea evolutiva degli hardware Nintendo. Ci sono poi dei compleanni che non credo avranno un forte riscontro mediatico. Alcuni, come quelli di Overwatch, Pokémon Go e Smash Melee saranno celebrati principalmente all'interno delle rispettive community. Poi una console come il 3DS non penso verrà ricordata da Nintendo, essendo uscita da poco riproduzione ed essendo stata rimpiazzata a tutti gli effetti dalla Switch. Troppo presto per vedere un nuovo Devil May Cry, serie che probabilmente festeggerà il suo ventesimo anniversario con la versione next-gen del quinto episodio. Così come dopo l'anno dedicato a Mario non credo troveranno spazio i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di New Super Mario Bros. Sono molto più incerto sul destino di Kid Icarus, una saga che in passato è stata ripescata dal nulla pur essendo considerata morta e sepolta ormai da tempo. Sarebbe bello vedere un seguito del titolo apparso su 3DS, magari sempre ad opera di Sakurai del suo team, anche se credo che le possibilità che il director si stacchi dal supporto Smash siano bassissime. Per i fan del JRPG potrebbe essere l'anno definitivo. Non mi aspetto grosse novità per i 25 anni di Persona. In fondo Atlus ha già due titoli della serie principale in uscita e con Persona 5 Royal pubblicato lo scorso anno e Strikers, che debuterà in Occidente fra poco, nella migliore delle ipotesi potremmo aspettarci la riproposizione su Switch e altre piattaforme di alcuni capitoli storici o anche della storia più recente della serie. I 15 anni di Kingdom Hearts rischiano di passare in sordina perché Square Enix, dopo Melody of Memory, potrebbe decidere di concentrarsi unicamente al seguito di The World Ends With You, ma anche in questo caso l'approdo della serie principale su Switch con il terzo e conclusivo episodio non sarebbe di certo una mossa di poco conto. E se ormai ho perso la speranza di vedere un quarto capitolo di Golden Sun, una serie che festeggia il suo ventesimo anniversario dall'uscita su GBA e porca miseria se mi sento vecchio, le aspettative sono invece altissime per la serie di Dragon Quest e il suo venticinquesimo compleanno, una saga su cui Square Enix ultimamente sta puntando tantissimo e se da una parte è troppo presto per vedere un nuovo episodio, visto che l'undicesimo capitolo è uscito recentemente anche nella versione definitiva su Switch, mi aspetto se non altro qualche remaster o remake di una certa importanza, magari andando a ripescare alcuni tra i capitoli più amati dai fan della serie. E per finire col botto, a compiere gli anni ci sono anche alcune serie slegate da Nintendo ma che potrebbero fare il loro ritorno. Sega si è dimostrata sempre felice di ricordare la storia della sua mascotte e per i 30 anni di Sonic mi aspetto qualcosa di maestoso tra remaster, remake e magari anche un nuovo episodio in 3D che sappia raccogliere un'eredità ormai perduta. Perché non sperare anche in un nuovo Street Fighter? In fondo il quinto episodio sembra aver detto ormai tutto e i tempi sono maturi per un sesto capitolo, così come sembrano aver confermato i recenti leak avvenuti al database di Capcom. Dopo lo scandalo della presentazione dell'anno scorso a questo punto mi aspetto un Halo Infinite che in occasione dei 20 anni della serie sappia dare la spinta che ancora è mancata alla next gen di Microsoft. E dopo l'ottimo quarto capitolo credo che Crash Bandicoot se ne starà buonino per un po' di tempo, anche se dopo è scontato il porting switch e magari l'annuncio di qualche DLC. Bethesda potrebbe giocarsi tutto per tutto e celebrare i 10 anni di Skyrim mostrando finalmente qualcosa sul sesto capitolo di Elder Scrolls, mentre il decimo anniversario di Arkham Knight, se tutto va bene, sarà coronato dall'uscita di Gotham Knights in attesa del ritorno di Rocksteady nel 2022 con il gioco sulla Suicide Squad. Come abbiamo visto di compleanni da festeggiare ce ne sono parecchi e anche se non tutti verranno celebrati a dovere il 2021 potrebbe riservare tantissime soddisfazioni, soprattutto a noi gamer un po' attempati. E voi poracci in quale anniversario sperate di più? Come festeggerete il trentesimo compleanno di Nanni? Vi aspetto nei commenti e se siete arrivati fino qui in fondo beh neanche ve lo dico di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle poratifiche perché probabilmente lo avete già fatto. Quindi non mi resta che salutarvi, noi ci vediamo presto, io sono il Poro Baffo, Michele 2021, ciao!